Il Comitato di Azione Civile Democrazia Belluno, per la prima uscita pubblica dopo la presentazione ufficiale dello scorso mese di gennaio, ha organizzato ieri all'albergo Cappello nel capoluogo un incontro sul tema delle migrazioni, analizzato dal punto di vista politico, sociale e storico. Questa sera noi abbiamo voluto prendere per mano subito il tema più scottante, più divisivo e più spinoso, l'immigrazione. Noi vorremmo stimolare una riflessione perché non è giusto che si ripetano sempre frasi fatti da altri. L'immigrazione può essere una risorsa, può essere un problema, però che sia una risorsa o un problema dipende tantissimo anche da noi, da come viene gestita. Adesso, secondo noi, viene gestita in modo fallimentare perché si genera tensione, la tensione non fa mai bene alla società. Intanto dobbiamo renderci conto che come italiani non siamo autosufficienti, abbiamo una demografia che ci condanna e saremo destinati all'estinzione se non accettassimo persone da fuori. Dobbiamo appunto aprirci, gestire l'immigrazione, prendere il meglio da questo fenomeno e preparare il nostro futuro, che sarà un futuro di multietnicità. Possiamo sopravvivere e garantirci il futuro solo gestendo l'immigrazione. Come proseguirà la vostra attività sul territorio? Sceglieremo di volta in volta temi culturali da sviluppare. Questo è il nostro mestiere che ci siamo scelti. Vogliamo fare questo e stare lontani appunto da bandiere di partito. Siamo prossimi alle elezioni europee. Darete indicazioni di voto? Tendiamo a non dare nessuna indicazione. Noi non siamo un partito, non diamo nessuna indicazione di voto. Chi partecipa ai comitati non ha una tessera, può votare per qualsiasi formazione politica. Ovviamente la nostra linea culturale invece è molto definita. Europeisti senz'altro, però critichiamo l'Europa laddove non aiuta l'Italia proprio in questi campi qua, per esempio l'immigrazione. Grazie. Grazie.